Emma Marrone al top Emma Marrone al top, in studio con i membri di Sub Sonic e Yamiroquai . Dopo il grande successo dellalbum Adesso del 2015, al quale è seguito Adesso Tour che ha riempito le piazze e i palazzetti di tutta Italia, Emma Marrone tornerà sul mercato discografico con un nuovo album ed è pronta a stupire ancora una volta i suoi fan. La registrazione del video è in corso e sul suo profilo Instagram la cantante Salentina sta pubblicando i diversi momenti di lavoro che contraddistinguono le sue gioia. . Proprio grazie alle foto condivise dalla star, i fan hanno scoperto che insieme a lei ci sono altri due grandi musicisti di fama internazionale, il batterista dei Sub Sonic e il bassista dei Yamiroquai. Il nuovo album si preannuncia già un grande successo. . Una nuova collaborazione stellare. . . Dopo la conclusione del suo tour di promozione per lalbum Adesso, uscito nel 2015, Emma Marrone è tornata in grande stile e sta lavorando in studio per la registrazione di un nuovo capolavoro, insieme a due grandi musicisti internazionali, Enrico Marra, batterista dei Sub Sonic e Paul Turner, bassista dei Yamiroquai. . 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 Sono tantissimi i fan che ogni giorno si rivolgono a lei in cerca di consigli di stile e la cantante riesce sempre a soddisfare tutti.